due squadre appaiate in classifica oggi tutte e due cercheranno la vittoria per fare un bel salto in avanti l'arbitro dà inizio al primo tempo vediamo in campo la formazione del Manchester United e sarà a calcio di punizione Martial è riuscita a interrompere la trama con un buon intervento esce e recupera il pallone lancio in profondità per Schreinsteiger palla persa fuori sarà fallo laterale Dyer attacca il Tottenham in zona interessante hanno esagerato qui col tiki-tacca e hanno perso il pallone ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo Martial e c'è subito dunque calcio di punizione Martial crossa occhio all'attacco dell'avversario palla recuperata dagli avversari Ericsson Dyer Martial Martial Kane ossesso per lo United Kane Juan Mata e il portiere recupera il pallone Ericsson vuole il controllo nonostante il pressing ci sarà la rimessa del portiere Dyer nonostante da Ericsson Dani Rose l'azione sfuma qui l'arbitro ha visto qualcosa attenzione rischia il giocatore degli Spurs hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centro campo sarà calcio di punizione contro lo United Walker palla sul fondo, corner per il Tottenham la allontana di pugno recupera il pallone con un intervento facile la mela occhio al tiro, tira il respinto dal difensore gran tiro allontana il difensore su questo tiro Martial c'è spazio davanti a sé e c'è il tiro sarà corner ripinge il pallone di pugno attenzione va con i pugni il portiere Dier Marcos Rocco tocco di ritorno e il portiere recupera il pallone Eriksen Eriksen c'è la battuta la spazza via Eriksen attenzione pericolo spazzano senza problemi Vertonghen Schweinsteiger la persona in area l'arbitro l'arbitro lo United da inizio dunque la seconda frazione di gioco palla e mezzo verso Rooney palla che finisce in angolo conclusione da dimenticare poteva essere il gol del vantaggio l'occasione l'hanno avuta ma l'hanno sprecata Eriksen c'è grande pressione su di lui si riparte con una rimessa laterale per lo United Show occhio al cross Marziao bravo il portiere a intervenire in tuffo non ha giocato male i primi 45 minuti ma il suo impatto sulla gara è stato inferiore alle aspettative sei d'accordo Stefano? ha giocato un brutto primo tempo girando un po' a vuoto e facendo mancare pericolo ecco il tiro palo l'occasione palla ancora buona il Manchester United guadagna dunque la rimessa con le mani darmian hanno interrotto l'azione avversaria recuperando palla a centro campo comoda uscita del portiere Eriksen si riparte con una rimessa laterale per lo United Marcos Rocco Artiglia bene il pallone tutto fermo tutto fermo c'è fuori gioco marciale walker walker schneiderlin la squadra avversaria la squadra avversaria riconquista il pallone De Bele ci sarà la rimessa dal fondo il match star United guadagna dunque la rimessa con le mani la squadra avversaria la squadra avversaria ottimo intervento nel portiere e qui avrebbero certamente potuto portarsi in vantaggio riconquista il pallone centriangolo Runei cercano col tiki-taka il momento giusto cross pericolo conquistano un buon pallone al centro campo Runei grande intervento difensivo attenzione che gol reddi da rete sembrava la partita equilibrata sulla carta con due squadre che si equivalgono ma insomma se guardiamo le conclusioni in porta hanno concretizzato la loro superiorità al tiro con questo bel gol colpo di testa perfetto per eleganza elevazione precisione match che riprende con il Manchester United dunque in vantaggio sostanziale l'equilibrio fin qui sul possesso palla bisogna vedere come viene sfruttato questo possesso però vanno a girare il pallone molto bene Ander Ander Andrena tino completamente fuori misura questo grande attosfera adesso sugli spalti momento chiave della gara per modificare le sorti del match risultato in bilico eventuale gol adesso potrebbe rivelarsi decisivo visto che manca ormai poco alla fine Chadli ottima visione di gioco match che torna in parità a pochi istanti dalla fine è un gol importantissimo che li riporta in parità è anche un po' sorpresa perché la partita sembrava ormai vederli uscire sconfitti sono riusciti a dare la zampata finale siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1 c'è la no arbitro che ferma il gioco e assegna il calcio di punizione con minzone contrasto fondamentale è questo bravo a intercettare questo pallone non era facile tutto facile qui per il portiere e dopo il fisco dell'arbitro dunque 1-1 il risultato alla fine della gara questo pareggio tra due squadre a pari punti di classifica rende ancora più intrigante il finale di stagione e chissà chi avrà la meglio qui era attenzione ottima visione di Gio